Bentornati amici, come di consueto vi porto sul set del mio ultimo shooting fotografico. Oggi andiamo a vedere qualcosa di insolito ma che tutto sommato sta diventando sempre più comune. Stiamo parlando infatti di fotografia per il settore benessere. Come vi avevo già raccontato in video precedenti, il settore benessere sta diventando una vera e propria priorità nella vita delle persone. Questo è un motivo che spinge sempre più professionisti di questo settore a richiedere dei servizi fotografici professionali per esporre con maggiore chiarezza quale sia la loro attività e quali sono le problematiche su cui vanno a intervenire. In questo caso specifico lo shooting è per uno studio dentistico. Stiamo quindi parlando di un professionista dell'odontoiatria. Lo studio è situato poco fuori Milano per cui non è in una zona centrale, non può avere i privilegi e i benefici di chi magari ha una sede in centro a Milano. Quindi si tratta di uno studio dentistico che potrebbe essere meno frequentato rispetto a uno studio di Milano. Per questo motivo deve darsi da fare e mettere su un impianto di comunicazione molto efficace, altrimenti rischia di essere tagliato fuori dal mercato. Proprio in questo contesto specifico, in particolare di questi tempi in cui è tutto più digital, il cliente richiede un servizio fotografico mirato al rifacimento del sito web. Quindi si tratta di realizzare uno shooting fotografico per andare a fare un restyling del sito web preesistente, un sito web che è abbastanza obsoleto in quanto è stato realizzato alcuni anni fa. I canoni del web cambiano molto rapidamente, per cui un sito che viene realizzato per esempio nel 2021 è molto molto probabile che non rispetterà più gli standard del web già nel 2022-2023, in quanto questi sono in costante mutamento. Lo shooting ha quindi l'obiettivo di avere il materiale necessario per andare a realizzare questo restyling del sito, che passa anche da una rivisitazione del logo, ma noi qui ci occupiamo solamente della parte fotografica. Cominciamo a vedere come si è svolto lo shooting vero e proprio. Stiamo parlando di un servizio fotografico abbastanza semplice, perché si è trattato di realizzare alcune foto del personale, quindi abbiamo fatto posare il personale sia su uno sfondo bianco, in questo caso per lavorare in maniera più snella non ci siamo portati un backdrop da allestire. Ma abbiamo precedentemente concordato con il cliente che dal momento che ci sono diverse pareti bianche all'interno dello studio avremmo realizzato le foto direttamente contro una di queste pareti bianche. Abbiamo quindi realizzato gli scatti del personale su sfondo bianco, in un secondo momento abbiamo realizzato gli stessi scatti del personale, quindi con la stessa posa e con la stessa illuminazione, però con dietro lo studio dentistico, quindi con dietro la sedia da dentista, un contesto un po' più ambientato. Questo per dare la possibilità di dare molteplici sfaccettature sia al sito sia a un'eventuale comunicazione. La parte più consistente dello shooting sicuramente è stata la parte dedicata agli interni, questo per il semplice motivo che scattare delle foto di interni richiede più tempo. Nel momento in cui io vado ad allestire il mio set e monto le luci, una volta che ho montato la luce, sono in grado di realizzare i ritratti del personale in maniera molto rapida, soprattutto se il personale si avvicenda in maniera smart e quindi non rimangono tempi morti. Per quanto riguarda invece gli interni è un pochino più complicato, perché scegliere l'inquadratura non è sempre semplice, in quanto ci sono diversi elementi che io non conosco, perché fanno parte del lavoro del mio cliente e non del mio, per cui devo stare attento a ogni elemento che potrebbe essere in disordine e potrebbe diventare un problema una volta che si guardano le foto arrivati a casa. Questo non deve succedere, perché potrebbe significare molta più post-produzione per me per rimuovere magari un qualcosa che è rimasto fuori posto nello studio, o potrebbe addirittura significare dover tornare a rifare gli scatti, cosa che assolutamente vogliamo scongiurare sia io che il cliente. Gli scatti di interni vengono realizzati come sempre con il bracketing, bracketing in questo caso a due stop, sto lavorando con la Canon 5D Mark II e con il mio bellissimo 17-40 mm della serie L, che ho riesumato per qualche shooting e che sto usando devo dire con grande piacere, perché soprattutto quando lavoro su tre piede e quindi quando non ho problemi di camera shake o quando non ho problemi di pose particolarmente lunghe, perché tanto sto lavorando sul cavalletto, è veramente un piacere lavorare con questa lente. Devo dire che è molto nitida, soprattutto nel mezzo, un pochettino meno ai bordi. Il 16-35mm f4 è più nitido anche ai bordi ed è più nitido in generale, ma è una lente più nuova. Devo dire tutto sommato che questa lente regala delle bellissime immagini. Trattandosi di spazi non particolarmente ampi, siamo stati costretti, e questa è una cosa che io di solito non faccio a lavorare sia in orizzontale sia in verticale. Perché non la faccio? Per almeno due motivi. Il primo, io sono abituato a ragionare sullo schermo cinematografico o sul monitor della televisione, comunque sono abituato a ragionare su un formato panoramico. Il formato portrait non è che per me non esista. Esiste se sto fotografando una bottiglia, esiste se sto facendo un ritratto, se sto fotografando una stanza, un paesaggio, tendo a preferire il formato orizzontale. Tendo a preferirlo anche perché la disposizione dei nostri occhi ci suggerisce che dovremo guardare una cosa che si sviluppa orizzontalmente come i nostri occhi, non verticalmente. Per me guardare le cose su smartphone è come guardare attraverso lo scostamento di una porta socchiusa, cioè una cosa scomoda. Mi obbliga a dare la prevalenza a un occhio rispetto all'altro, mi obbliga a guardare in un punto che esclude il 90% del mio campo visivo, quindi lo trovo scomodo e tendo a preferire la fotografia orizzontale, quindi la fotografia classica se vogliamo. Tuttavia in questo caso non è stato sempre possibile perché alcune delle stanze erano molto strette, alcuni dei macchinari la maggior parte per la verità erano a sviluppo prettamente verticale. In questo caso ovviamente si gira il nostro cavalletto sulla sua testa rotante e si realizza anche qualche scatto in verticale. Per quanto riguarda invece le fotografie del personale ho utilizzato un'altra camera, fotografie del personale e degli strumenti. Ho utilizzato un sensore APS-C quindi ero sulla mia Canon EOS 80D, una camera che mi piace sempre moltissimo perché la trovo incredibilmente versatile e con la giusta illuminazione e abbinata a un'ottica potente come il 17-55mm f2.8 è veramente molto performante. Come vi dicevo questa camera abbinata a questa lente viene utilizzata sia per i ritratti del personale sia per i dettagli dello studio e degli attrezzi da dentista. L'illuminazione viene realizzata in due step separati. In un primo momento utilizziamo il nostro flash a slitta che è lo speedlight 432 molto versatile che illumina perfettamente pressoché qualsiasi ambiente. Tuttavia per alcuni scatti per lavorare meglio per lavorare con una luce più ampia ci avvaliamo di una luce Godox SK402 con un ombrello traslucido molto molto semplice quindi un setup assolutamente minimal viene attaccato alla corrente in quanto non è il modello con la batteria incorporata non è una D400 Pro che ho ma che non ho portato in questa sede quindi attaccato alla corrente ma spazi piccoli per cui filo sempre abbastanza lungo quindi nessunissimo problema. Ora le difficoltà incontrate durante questo shooting sicuramente c'era una grandissima differenza di illuminazione tra l'interno e l'esterno questa è sempre la difficoltà maggiore quando si realizzano foto di interni perché nel momento in cui ho un interno che può essere illuminato ma non lo sarà mai quanto l'esterno e ho un esterno luminoso quindi con il sole che colpisce le superfici all'esterno ho sempre una differenza tale che sono costretto matematicamente a ricorrere al bracketing perché la mia camera per quanto sia nuova per quanto sia potente non riuscirà mai a rendere quella gamma dinamica in questo caso la camera non era nemmeno nuova perché è una camera che ha più di dieci anni performa sempre benissimo anche con una camera nuova sarei dovuto ricorrere al bracketing in questo caso a maggior ragione. Un'altra difficoltà ma che è assolutamente minore riguarda l'illuminazione ovvero realizzare gli scatti del personale ha richiesto l'installazione di una luce con un cavalletto a piantana quindi ovviamente inserire un cavalletto a piantana con anche un ombrello traslucido all'interno di un ambiente non grandissimo è sempre una difficoltà perché obbliga tutti a lavorare in uno spazio ancora più ristretto tuttavia riuscendo a stabilire una giusta distanza dal soggetto e lavorando sulle impostazioni del flash della camera quindi andiamo a lavorare non sul triangolo dell'esposizione ma sul diamante dell'esposizione se non sapete cos'è cercatevi qualche video qui intorno io non ne ho fatti sull'argomento ma fondamentalmente al triangolo dell'esposizione andiamo ad aggiungere la variabile del flash come aggiungere un punto in più al nostro triangolo che in questo modo diventa un robo chiamato appunto diamante dell'esposizione vi cito questa come difficoltà perché perché normalmente si sarebbe anche potuto lavorare semplicemente con lo speed light quindi io ho fatto una cosa in più che volendo non era necessaria avrei potuto semplicemente lavorare con lo speed light tenere un riflettore o farmi tenere un riflettore da qualcuno e far rimbalzare la luce sullo speed light perché ho preferito usare una torcia godox con un ombrello traslucido ragazzi per due motivi prima di tutto la qualità perché sicuramente una luce più potente con un diffusore più grande mi aiuta ad avere una luce più morbida sui soggetti quindi il risultato finale sarà sicuramente migliore in secondo luogo è anche una questione di comodità e di resa globale nel senso che io ho scattato spesso e volentieri con lo speed light tenendo il flash in mano il problema di questo setup è che mi rendo conto che un minimo movimento della mia mano con il riflettore cambia completamente il risultato quindi se io voglio avere consistenza durante tutto lo shooting avere sempre la stessa luce sui miei soggetti devo trovare il modo di avere le cose fisse di avere le mie luci fissate in una posizione che decido io e poi non si devono muovere più questo è possibile solamente con un cavalletto con una piantana con uno stativo perché altrimenti la mano si muoverà sempre sia che lo tenga io sia che lo dio in mano un assistente ci sarà sempre un micro movimento e quindi non riuscirò mai a essere consistente durante tutto lo shooting parlando di post produzione una cosa veramente semplice nel senso che la maggior parte delle immagini non ne ha praticamente avuto bisogno in quanto sono state scattate con delle impostazioni standard in modalità manuale con una luce che avevo già preimpostato con due o tre scatti di prova massimo a quel punto è stato sufficiente realizzare un preset che ho trascinato su tutte le immagini applicando gli stessi parametri a tutto quanto lo shooting il preset che ho utilizzato non aveva dentro filtri cose particolari lucine lucette non c'era niente di strano è sempre il mio solito preset che io utilizzo per la nitidezza che potete trovare in free download sul sito che vi lascio in descrizione ovviamente se c'erano dei problemi di alte luci troppo luminose o ombre troppo scavate è stata fatta una mini correzione sui parametri dell'esposizione ma nulla di più niente di trascendentale la maggior parte della post produzione è stata come sempre dedicata allo sviluppo del file hdr quindi si è trattato di prendere i gruppi di tre immagini e fare merge to hdr per tirare fuori il dng con dentro tutte le informazioni dei tre scatti realizzati in bracketing questo consente di tirare fuori delle immagini che sono molto luminose ma molto piene di dettagli anche nelle alte luci un risultato che non è facilissimo da conseguire semplicemente perché richiede più tempo e che la maggior parte dei fotografi semplicemente non propone ai propri clienti per una questione di tempo per una questione di terminare prima il lavoro incassare prima i soldi e passare prima a fare un altro lavoro tuttavia io credo che sia importante farlo questo step perché se il cliente si ricorda di noi parlerà bene di noi ad altri suoi amici colleghi ed è possibile che ci arrivino delle altre commesse quindi secondo me è importante lavorare sempre al massimo delle nostre possibilità perché se non lo facciamo noi lo farà qualcun altro le foto vengono come sempre consegnate via protocollo ftp quindi in questo caso ho utilizzato we transfer perché siamo sotto la soglia di allarme dei 2 giga le foto non erano tantissime saranno state una ventina di foto del personale più una ventina di foto degli interni più una ventina di foto dei dettagli quindi stiamo parlando di un shooting assolutamente contenuto diciamo che ci ho messo più tempo a fare le inquadrature per le foto di interni piuttosto che a scattare quindi è stata una cosa che non ha richiesto nemmeno l'utilizzo di protocolli ftp più performanti come fa il mail o smash è bastato mandare un semplicissimo we transfer le immagini vengono ovviamente consegnate in formato jpeg ho utilizzato come sempre il profilo colore adobe rgb 1998 perché non si sa mai che poi debbano anche essere stampate così in questo modo possono essere convertite agevolmente in srgb se le avessi consegnate direttamente in srgb a qualsiasi utilizzo non digital per qualsiasi utilizzo di stampa avrei dovuto fare un secondo export invece così diciamo che me la smazzo più facilmente questa cosa della foto preferita mi manda sempre al bar allora non posso dire di avere una vera e propria foto preferita di questo shooting perché si è trattato di una cosa molto semplice lineare c'è poca arte in uno shooting di questo tipo tuttavia posso sicuramente presentare questa foto come la mia preferita dello shooting in quanto trovo che sia l'inquadratura migliore che potevo realizzare in quel contesto con il più alto livello di tecnica perché c'è il tempo che è stato adattato alla posa ci sono gli iso che sono stati mantenuti bassi c'è il diaframma che è stato mantenuto chiuso per avere tutto più a fuoco possibile c'è il bracketing a due stop che è stata una scelta ben precisa perché volevo la gamma dinamica maggiore possibile e c'è il merge to hdr in post produzione quindi è la cosa più tecnica che ho realizzato durante lo shooting anche per quanto riguarda la composizione quindi se dovessi sceglierne una sarebbe sicuramente questa in conclusione ragazzi vi posso dire questo nel corso degli ultimi anni le foto per il settore beauty per il settore benessere hanno avuto un'esplosione pazzesca un settore che prima si reputava talmente necessario da non aver bisogno di promozione si è improvvisamente reso conto di essere in un universo molto molto competitivo e dove tutto si è spostato sul digital quindi non è più sufficiente aprire un centro benessere aprire uno studio dentistico per avere fiumane di clienti che entrano no perché questi clienti scopriranno di avere dei dentisti intorno a dove abitano guardando sui social per cui un dentista un qualunque esercizio che ha a che fare col benessere che è presente sul digital si troverà più clienti rispetto a uno che ignora completamente la possibilità di farsi promozione online per questo motivo c'è stato questo boom per questo motivo stanno diventando sempre più frequenti le richieste di shooting fotografici da parte di studi dentistici centri benessere palestre chi più ne ha più ne metta è un settore secondo me in crescita dove si può ancora fare tanto anche perché veniamo da siti web molto obsoleti e da servizi fotografici realizzati da professionisti o molto datati o poco competenti per cui è un settore dove si può anche metterci del nostro per fare degli ottimi lavori a questo punto non mi rimane che invitarvi a lasciare un like e un commento a questo video soprattutto se avete imparato qualcosa seguite anche questo canale perché sono sicuro che se non avete imparato qualcosa oggi imparerete qualcosa nel prossimo video extra chi ha avuto la brillante idea di inserire questo campionale dopo ne parliamo una cosa che sicuramente mi sento di condividere con voi è questa quando andate a realizzare uno shooting siate curiosi questo per una serie di motivi ve ne cito due in particolare il primo come fate a realizzare uno shooting se non sapete con che cosa avete a che fare io quando vado in un posto dove non so che cosa sta succedendo e abbiate pietà in uno studio dentistico io non ho la minima idea di che cosa servano tutti i vari utensili non so cosa stanno facendo non so che prodotti stanno usando per cui lo chiedo questo mi serve per lo shooting ma il secondo motivo è che mi arricchisce come persona perché io ogni volta che vado a fare uno shooting esco che so qualcosa in più non è una cosa operativa che mi serve nell'immediato non è che ho imparato un trucco per far consumare meno benzina la mia auto il più delle volte però andare da un dentista e farsi raccontare come funziona l'apparecchio per fare l'abblazione del tartaro è una cosa per cui io poi la prossima volta che andrò dal mio dentista me lo ricorderò e magari avrò più competenza per dirgli ah stai usando quell'utensile lì non è che mi serva a qualcosa però è una cosa in più che io so e man mano che io vado dai clienti e imparo cose so sempre più cose e ricordatevi questa cosa sapere delle cose nella vita non può farvi male ragazzi questo è tutto per oggi io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video